Gemma Galgani, dopo l'addio di Giorgio la dama ritrova il sorriso, sarà per un nuovo amore? La popolare dama del trono over di Maria De Filippi è ritornata a sorridere e sperare sui social dopo la rottura con il compagno Giorgio Manetti, ecco le sue parole. Gemma Galgani, la popolare dama torinese del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, uomini e donne trono over, è ritornata a far parlare di sé per alcuni post ed immagini pubblicate sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove appare nuovamente serena e sorridente, la protagonista del trono over ha voluto dare il buongiorno ai suoi tanti followers sui social network cambiando l'immagine del profilo, scegliendo un'immagine singolare quanto mai eloquente, cioè quella di un gattino con il muso all'insù. A corredo di questo dolcissimo scatto, alcune parole che rappresentano oggi tutto lo stato d'animo di Gemma, Gemma, dopo la rottura con Giorgio, ora arriva la Speranza la dama di Torino, riferendosi all'immagine pubblicata, scrive, rappresenta uno stato d'animo di profonda speranza, aggiungendo, speranza che tutto vada bene La dama, sempre presa di mira e pesantemente attaccata dall'opinionista Tina Cipollari, conclude il suo post scrivendo che lei crede proprio nel fatto che la speranza sia l'ultima a morire, e certo. Gemma Galgani ha molto di che sperare in questi ultimi giorni, perché la dama è stata molto delusa e provata dalla decisione di Giorgio Manetti di rompere definitivamente il loro legame. Le critiche ricevute a uomini e donne, così come la dolorosa decisione di Giorgio non sembrano però aver piegato ed abbattuto Gemma, che ora metabolizzato il brutto momento si è rialzata ed è pronta a proseguire il suo cammino. Di ricerca di un amore vero e sincero, chissà se il sorriso che oggi Gemma ha voluto condividere sui social sia dovuto anche all'apertura verso qualche altro spasimante, magari Armando, con cui ha ballato diverse volte negli ultimi giorni. Nell'attesa di scoprire cosa vi ha finalmente riportato il sereno nella vita della Galgani, l'unica certezza al momento è l'affetto del pubblico, che la difende sempre dai continui attacchi di Tina Cipollari.